oggi credo di aver visto un film l'udinese che vince fuori casa con tre gol incredibile i bianconeri hanno ribaltato un po i loro valori numerici dai cinque gol fatti in tutto questo campionato ai tre gol tutti d'un colpo un po come quelli subiti insomma vabbè quanta grazia potremmo dire soprattutto tre gol bellissimi da impazzire uno più bello dell'altro e un'altra novità assoluta sono che i tre gol portano la firma di chi non aveva mai segnato in questo torneo cioè depol che insieme e lasagna che firmano anche tra l'altro la prima vittoria in trasferta della nostra udinese ditemi per favore che è tutto vero ed è successo contro il genoa a genova che pure l'ha andato in vantaggio comunque sia questa mi è parsa una vittoria che ha le stigme della serenità e del merito assoluto oggi la squadra ha cambiato tra l'altro quattro inamovibili samir i aialo che peraltro era squalificato beccao e lasagna per dar luce a noi tico poco wallace e nestorowski cosa a mio avviso che avrebbe dovuto fare tudor dopo la partita di bergamo parliamoci chiaro anche perché è una partita che veniva dopo tre giorni e dopo aver preso sette gol ma solo questo secondo voi e secondo me valsa la vittoria non so forse non ci sono certezze l'unica certezza è che hanno giocato come moschettieri uno per tutti e tutti per uno in panchina però c'è la luce luca botti da le scelte portano la sua firma e la sua intervista nel dopo partita e roba per palatifini mite forbito modesto al punto da sembrare un gentleman britannico un uomo fuori dal nostro calcio mediatico a tutti i costi non a caso dopo ogni gol tutti dico tutti i giocatori si sono uniti in un unico abbraccio intorno a lui non è un caso persino chi era in panca come lasagna e samir in quel momento e company si sono avvinghiati intorno all'uomo che sembra venuto essere venuto dalla city sarebbe facile stigmatizzare il tale comportamento come una presa di coscienza dei giocatori che sicuramente c'è stata in fondo si è capito che questa è una squadra unita e non un greggio come era sembrato nelle ultime due partite la vergogna ha fatto da antidoto a questa prestazione ed è un buon segno ma è anche un buon segno la plomb di gotti che in panchina sembrava sedesse alla camera dei lord beh non durante la brexit ovviamente chapeau mister gotti tutto questo per dire che forse la società prima di avventurarsi alla ricerca di qualche altra testa da tagliare mediti sulla possibilità di una sua riconferma ad interim per tutto l'anno l'unico per il quale sarei disposto a sottomettermi come del resto gran parte dei friulani sarebbe francesco guidolini che mi pare lontano da questa idea comunque si attiriamo un profondo sospiro di sollievo per aver evitato le sabbie mobili ed invochiamo lo spirito santo affinché illumini le decisioni della società amen e mandi